Allora, ha sentito Bassetti qual è il ragionamento di Galli? Dice che siamo ancora pieni di contagi, cioè la verità è che non siamo pronti a correre questo rischio quindi il rischio viene mal calcolato, questa è l'obiezione che fa Galli. Sento lei, poi sento Purgatori, Migliore e Borgonovo, tutti e tre. Guardi, il problema è questo, forse a Galli sfugge un passaggio che se i contagi non funzionano abbiamo il sistema dei colori non è che dal 26 aprile viene spento il sistema dei colori cioè fondamentalmente vale il concetto che se c'è un'area dove la situazione non va tanto è vero, guardi cosa sta succedendo ancora oggi in Sicilia o altre regioni italiane vengono messi in zona rosso alcune parti di una regione, di un comune o di una provincia quindi non è cambiato niente rispetto a quello che abbiamo fatto in tutto l'inverno che è appena passato, forse è sfuggito questo passaggio però vede, chi come me passa la propria vita a lavorare insieme alla regione perché io ogni giorno lavoro con la mia regione forse ha una maggiore idea rispetto a chi invece lavora contro la propria regione Allora, questa è un'affermazione bella pesante diciamo